Il paziente con Gloria Sinfonia ha la possibilità anche di vivere un'efficace motor imagery in quanto a una visualizzazione ormai ben rappresentata e tridimensionale dell'arco che viene mobilizzato dal dispositivo di robotica e addirittura anche è possibile impostare attività bimanuali tale per cui il gioco basato sui neuroni a specchio e sullo sfruttamento delle interconnessioni emisferiche viene gioco forza facilitato da questa duplice strategia che è possibile sfruttare grazie a Gloria Sinfonia.